Sono i neolaureati all'Università di Salerno, quelli che riescono più facilmente a trovare un lavoro a un anno dal conseguimento del titolo di studio in area medica. A rivelare questo più rapido approdo nella corsia di un ospedale e eustation.it, il portale dei media universitari italiani, sulla base di un'elaborazione dei dati del sedicesimo rapporto Alma Laurea. Secondo lo studio di eustation, infatti, l'87.5% di quanti si sono laureati in uno dei corsi dell'area medica, triennale, specialistica o magistrale al ciclo unico, nell'Ateneo Campano, a un anno dalla laurea, risultano occupati. Seguono, nella classifica stilata dal portale, il San Raffaele di Milano con l'86.9% e gli Atenei di Verona con l'82.3%, in Subria 80.9% e Trieste con il 79.1% di occupati. Anche per quanto riguarda la durata media degli studi, gli studenti che riescono prima a ottenere il titolo di studio a completamento di un corso magistrale al ciclo unico in area medica, sono quelli di Salerno, che impiegano in media 5.8 anni. Proprio in relazione all'ultima indagine di Alma Laurea, gli studenti di medicina e chirurgia di Salerno, insieme ai neolaureati ed agli specializzandi, sono orgogliosi dei risultati ottenuti, frutto di grandi sacrifici, di un impegno continuo e di grande sinergia con tutte le componenti dell'Ateneo. Aver collaborato in maniera determinante affinché la facoltà di Salerno sia, e per diversi aspetti, tra le prime d'Italia, è per noi motivo di incoraggiamento per affrontare le sfide future della nostra formazione umana e professionale. Negli ultimi due anni, gli studenti di medicina di Salerno si sono classificati ai primi posti per quanto riguarda la valutazione dei progress test, con una percentuale di risposte corrette del 65% rispetto ad una media nazionale del 51%. Inoltre, nonostante non fossero state istituite a Salerno, 24 su 27 studenti hanno superato il concorso di accesso alle scuole di specializzazione, alle quali ispiravano i molti prestigiosi Atenei italiani. Atenei 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 Atenei